Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Si è svolta questa mattina alle 9 l'udienza collegiale davanti al Consiglio di Stato per discutere i ricorsi del Teramo e del Campobasso. Il verdetto è atteso nel tardo pomeriggio, domani mattina, e il Consiglio, preseduto dal presidente facente funzioni, Giovanni Nicolò Lotti, si pronuncerà contro l'esclusione della società bianco-rosso dal campionato di Lega Pro. Il Teramo ha chiesto la riammissione in Serie C, in subordine in D, anche in sovrannumero. I tifosi del Diavolo attendono con ansia un pizzico di speranza il risponso che deciderà il futuro del club. Intanto ieri pomeriggio si è riunita la Commissione Comunale che ha valutato positivamente il progetto della neonata SSD Città di Teramo. I soci, con a capo Lorenzo Ponsuoli, hanno coinvolto altri 40 nomi tra imprenditori e società commerciali, nomi di sicura affidabilità che hanno deciso di attendere le decisioni del Consiglio di Stato e si sono riservati di inviare il progetto finale alla FIGC per chiedere la Serie D in caso di mancato accoglimento del ricorso al Consiglio di Stato. Parlando di calcio, una bella notizia nel Teramo arriva dal settore giovanile. Il giovane Mattia Mattielli, classe 2005, ieri è stato chiamato per un provino alla Sampdoria, presso il centro sportivo Bogliasco. Il giovane calciatore di talento due anni fa è stato allenato da mister Cifaldi, lo scorso anno capitano dell'Under 17 sotto la guida tecnica di Cervino. Mattielli è cresciuto nelle giovanili del Teramo, ha iniziato a sei anni con i pulcini e sono undici anni che appartiene al settore giovanile bianco-rosso. Essere stato chiamato per tre giorni fino a sabato con un club di categoria superiore sicuramente è una grande soddisfazione in assituto per il ragazzo che con sacrifici si è meritato l'attenzione di un club di Serie A, ma in egual visura anche il giusto premio per il settore giovanile del Diavolo che con tecnici preparati e con strutture adeguate ha saputo porsi all'attenzione di una società di Serie A come altri giovani.